Ciao a tutti, sono Leslie dei Soul System e volevo invitarvi tutti il 10 gennaio a Blue Note con i Rejoice Gospel Choir. Io ho lavorato tante volte con loro, sono delle persone stupende e anche live per fanno cura e sapete che sono SWAG! Quindi vi aspetto tutti il 10 gennaio a Blue Note con Gianluca Sambataro e Rejoice Gospel Choir. Peace! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!